Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mi hanno detto, perché non l'ho visto, chiedo scusa, che Rete4 si è affezionata a me, come tanti altri. Praticamente ieri è riandata al telegiornale delle 7.30 la tralinette rissa, così la chiamano, che è successa in agosto o quando era in Comune Eterni. Sono praticamente ancora famoso per queste stupidaggini che non hanno né cape né coda. Io capisco che la politica italiana non abbia molto da dire e che debba evidentemente diversificare spesso i propri, diciamo, portare l'attenzione su situazioni diverse, ma non credo con molta onestà che sarò abbattuto dalla politica né di destra né di sinistra per questo tipo di atteggiamenti. E per queste cose che vengono ripetute, dove poi sostengo ancora con estrema forza che io, se non mi avessero rotto le scatole e nessuno mi avesse messo le mani addosso, sarei stato tranquillo e sereno e avrei semplicemente detto al mio interlocutore che doveva accomodarsi fuori. Forse non sarà stato il mio compito, ma non l'avrei toccato con un dito. D'altronde non mi risulta di essere quotidianamente, negli ultimi 63 anni, apparso in procura per avere percosso persone che comunque chissà che o aver aggredito o fatto una guata a qualcuno. Detto ciò, trovo abbastanza sconcertante e abbastanza buffo il fatto che ancora nel giornalismo italiano si continui a servire una certa parte politica per tentare di denigrare chi oggi la politica la fa sul serio e chi porta a casa dei risultati. Stiamo per iniziare adesso una vera e propria campagna elettorale tremenda direi, per gli altri, perché io ho tutta l'intenzione di aiutare il nostro candidato sindaco di Perugia, il nostro candidato sindaco di Foligno e il nostro candidato di Gubbio a ottenere il risultato che io credo si meritino i cittadini, non più essere guidati da incapaci, ma finalmente essere guidati da un partito che comunque di fatto ha le idee molto chiare e che tenta di essere sempre produttivo. Idee molto chiare che saranno anche dimostrate nei prossimi giorni sul primo bilancio che noi presenteremo a Terni, un vero e proprio bilancio politico, un bilancio che aiuterà la città a rinascere e ad essere ricostruita. Le chiacchiere stanno a zero, i cittadini potranno vedere i fatti e i fatti riporteranno nella città un ordine che prima non c'era, un ordine semplice che serverà alla città di Terni per riprodurre industria, per riprodurre commercio e per portare per la prima volta forse un turismo vero a Terni, a parte quel turismo mordi e fuggi che va alla cascata e guarda le cascate. Troveremo anche il modo per far fermare per due o tre giorni che va a vedere le cascate e per non farlo scappare in tutto il resto dell'Umbria. Detto ciò, questo video è soltanto perché oggi mi viene da sorridere quando la gente mi chiama e dice Stefano ma che hai fatto? Un'altra volta è successo in comune. No, io l'ultima volta in comune ho soltanto mandato dei bacetti a delle persone che secondo me non sono degne di essere state votate e non sono degne di fare politica. Mi dispiace solo per i loro elettori ma oltre questo non vado e ancora adesso gli voglio mandare a tutti un bacetto. La politica è per chi può dare la garanzia agli altri di sapere attraversare un deserto, non per chi chiede un bicchiere d'acqua e non sa nemmeno attraversare il pianerotolo.